Come far apparire e scomparire il menu di navigazione allo scorrimento usando Wix Come prima cosa apri la barra degli strumenti e seleziona la striscia che contiene l'immagine e metti lo 0 all'interno dell'asse delle Y poi seleziona la striscia all'interno dell'intestazione e porta l'opacità del colore a 0 Chiudi tutto, tre puntini in alto a destra, cambia design all'intestazione seleziona il primo effetto e poi a regolare porta l'opacità a 0 e allo scorrimento scegli come colore il nero Ecco il risultato finale, scarica la mia guida gratuita per realizzare il tuo sito web con Wix